La depurazione extracorporea inuti, un amore controverso fra nefrologi e rianimatori. Questo è il titolo del convegno che si terrà a Teramo il 10 giugno all'interno della sala convegni dell'ospedale Mazzini. L'obiettivo di questo convegno, congiunto con la nefrologia, con l'unità operativa di nefrologia, è quello di fare il punto e di creare i presupposti per un miglioramento dei trattamenti che facciamo nei nostri pazienti i quali sono pazienti estremamente delicati perché i pazienti che arrivano soprattutto in ambito cardiochirurgico sono dei pazienti che si portano dietro una serie di patologie che sono legate alla loro patologia di base e che possono essere esacerbati proprio dalla tecnica estremamente complessa degli interventi cardiochirurgici. Non trattiamo semplicemente pazienti che vengono dalla sala operatoria, quindi sottoposti ai pazienti cardiochirurgici, ma anche pazienti che provengono da tutto il dipartimento cardiovascolare che quindi per definizione sono cardiopatici e quindi hanno proprio per questo una funzionalità renale spesso compromessa perché è legata alla funzionalità cardiaca. Oggi insieme anche per l'adozione di tecniche innovative? Sì, stiamo provando insieme al dottor Del Rosso a portare avanti anche il discorso di nuove terapie anticoagulanti durante i trattamenti sostitutivi renali proprio perché i nostri pazienti sono pazienti soprattutto gli operati che sono più a rischio di sanguinamento e quindi il trattamento con l'anticoagulazione eparinica che è stata fatta fino a questo momento a questo punto non è più fruibile e quindi stiamo cercando nuove procedure, nuove sostanze che rendano il sangue meno coagulabile ma che non abbiano le interferenze sulla coagulazione che già ci sono. Il titolo del convegno è Un amore controverso, perché? Perché è un confronto, incontro tra diversi specialisti e spesso l'amore come lei pensa qualche volta è controverso, però è sempre finalizzato ad un risultato e ad un obiettivo comune che è quello che è il miglior trattamento per il malato. Amore controverso perché il rianimatore è un intensivista che si trova spesso di fronte alle emergenze, il nefrologo è un clinico che spesso è più attendista, spesso l'approccio è controverso più che il rapporto e il risultato. Oltre al programma del convegno, l'importanza di questo convegno? Il convegno è importante perché anche il coronamento di 18 anni di collaborazione stretta con i rianimatori che al di là di quelle che abbiamo detto prima dell'amore controverso è stata una collaborazione attiva, fattiva che nel corso degli anni ci ha portato ad implementare le metodiche di sostituzione della funzione renale in pazienti che come ha detto prima il Dottor Taraschi sono pazienti comorbidi con gravi problematiche non solo renali ma anche non solo cardiache ma spesso multiorgano, pazienti con shock settico quindi che hanno necessità per la complessità delle loro problematiche di un approccio multidisciplinare. Per questo troverà nel programma l'intervento degli infettivologi, degli internisti e di tutte le professionalità coinvolte nella gestione di pazienti ad alto rischio ed estremamente complessi.